Sono già diverse centinaia le persone del Vallo di Diano che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti-covid. Si tratta di diversi anziani ai quali l'equip guidata dalla dottoressa Rosa D'Alavan del Dipartimento di Prevenzione del Vallo di Diano ha inoculato il cosiddetto booster. Non occorre prenotarsi per poter accedere alla terza dose del vaccino, ma soltanto avere delle caratteristiche, ovvero essere over 60 o essere inseriti nelle categorie a rischio. Secondo le indicazioni ministeriali, la dose booster sarà ora dedicata a fibrosi cistica, malattie neurologiche trapiantati, endocrinopatie severe, malattie cerebrovascolari, emoglobinopatie, anemie e disabilità gravi. Per chi over 60 ha già effettuato ovviamente i due vaccini, occorrerà aspettare sei mesi dalla seconda dose. Per potersi vaccinare nel Vallo di Diano, si potrà scegliere se andare al lab di Cagliazzano a Sassano ogni mercoledì dalle 15 in poi oppure ogni venerdì, sempre dalle 15 in poi, nel centro vaccinale di Teggiano, nella sede dell'Opsaut. Ovviamente continuano anche le inoculazioni di prima e seconda dose di vaccini. Grazie a tutti.